Ciao a tutti ragazzi, io sono Vincenzo, quello a fianco a me è Cristian e stanno parlando L'ag come se non ci fossero domani Aiuto, non l'agghi la preghia, non il telefono Per una volta Aiuto E no, guarda l'agghi il telefono C'era buttato giù quello Aiuto Non muore Devi tipo morire, no? Proprio è una fila Mi piace a foto Poi, dove non riuscire la vita? Ci sono un po' più inverno E' un po' più inverno Non ci sono proprio la galla E' un po' più inverno Ah, sono, mi capo Io cadene Ah, sono, mi capo E' un po' più inverno Grazie a tutti. 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 Buongiorno. 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 adesso allora ragazzi abbiamo perso ma ciao perché abbiamo visto ciao ciao